Un appuntamento di Rossini in cui, in modo notevole, ho visto che al certo punto non si sentiva la mancanza dell'orchestra, da niente. Grazie, grazie, ben dolore. Ben dolore, a tutti i guanni, ma anche a tutti i guanni, a tutti i guanni, in modo manuale. Non gli stai da ido, però... C'è lavorato, come loro hanno lavorato con tutti questi arrangiamenti animali, a Raiopolis, bellissimo disco. Io vi do appuntamento il 5 di agosto. Non so che giornalmente rimane di... Ho perso il conto. Vengono a dire... 5, 6, 5, 6 di agosto sono due appuntamenti corali, dove vi ascolteremo tutte le musiche popolari, perché visto che è l'estate, il festival c'è, la notte bianca con pop, rock, c'è, adesso ci sarà la notte dello shopping, la gente non ha i soldi in giorno, no, i negozi sono un po' di giorno, ma che notte in giorno... Vabbè, la notte dello shopping, vendiamoci la notte dello shopping... Vabbè, non vedete le prezzi, no? Si sbagliano un po' che zero... Poi ci sono inventati la notte blu... Ma però, io benissimo... Non mi capito a cosa mai... Si, noi ci sono inventati Red Free Day, Red Free Day in cui non lo so... Allora, la danza classica, che abbiamo visto ieri, ci sono altre frequentate di danza classica, qui è musica arte, nei cartelloni estivi, zero, musica popolare, zero, eppure io sono una classicista diciamo, però è importante anche le tradizioni popolari, no? Perché soprattutto l'appruzzo, dove abbiamo le montagne, il mare, tutte queste canzoni che ci ricordano, no? E poi anche le persone, tra i zigonetti e la terza età, hanno anche loro benito, adesso non ci sono perché sa nanna, ma che abbiamo la linda, di avere la loro estate musicale, o no? Perché certo, la signora di 60 anni non è che guarda a fare la morte e pianta con danni a piotti, insomma, no? E' eccezione! E' eccezione! E' eccezione! E' eccezione! C'era il nome dei tuoi appuntamenti di pianoforte e 10 con il grande leontino, Gielsi, che porterà quel quintetto di interventi. Ci senti tu? E' eccezione! No, poi non devo ascoltare! Sì, sono tutti i tuoi colleghi nello stesso strumento, cioè che a un certo punto è fatto anche il per il rappresentino in là, eh? E' eccezione! E' eccezione! Ok, facci un pensiero per il prossimo anno! Peccettino e grazie a te! Piccolino! Piccolino! Grazie ancora per tutti! Grazie! Ci vediamo 5 di agosto! Buon attractive! Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! Non ti sto guardando se ho guardato con trampoli sebelum fare uno... Buon appetito! Volevoagliederio! Sott Judith, effettito un'area prendhasza! Che volete ascoltare? Chi avrà? Dai! Buon appetito! Wonp возможно! Un ben... Uranlange Simo! Er человека! Gia! Grazie. 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 Grazie.